T-Group rivoluziona il concetto di appartenenza aziendale con il suo esclusivo programma Reaction to Value, un'iniziativa pionieristica che supera i tradizionali percorsi di crescita. Il programma è l'esempio dell'approccio unico dell'azienda, trasformare i dipendenti da semplici collaboratori a veri soci. Attraverso questo programma innovativo, T-Group ha lanciato una serie di strumenti finanziari partecipativi, una mossa audace che trasforma i dipendenti meritevoli in coproprietari dell'azienda. Così facendo, T-Group non solo riconosce il contributo dei suoi dipendenti, ma li integra come membri effettivi dell'azienda. Fino ad ora T-Group ha premiato 38 dipendenti eccezionali con azioni aziendali, un segno tangibile del loro impatto e dell'impegno dell'azienda verso di loro. Queste azioni non solo rappresentano una semplice ricompensa, ma un investimento nel futuro dei dipendenti e nella crescita condivisa dell'azienda. T-Group pone grande enfasi sul rafforzamento di questa connessione, mirando a far sentire ogni dipendente una parte integrante non solo del presente, ma anche del futuro dell'azienda. In T-Group ogni contributo è valorizzato e ogni membro è considerato prezioso. L'azienda si posiziona come in continua espansione, unita nel cammino verso il successo. T-Group. Insieme verso nuovi orizzonti. S-Group. Insieme verso nuovi orizzonti. Grazie.